calendario scolastico 2022 23 che succede in iran la spiegazione facile ponti 2023 i promessi sposi podcast mappe concettuali date maturità 2023 tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus temi svolti riassunti dei libri dieci bambini prodiglio della storia scopri se hai i sintomi della genialità apostrofo leggendo le storie di questi dieci bambini prodiglio si capisce solo una cosa gene si nasce non si diventa col tempo l'intelligenza può essere si stimolata ma il talento quello vero è qualcosa di innato qualcosa che ogni vero genio ha nel suo dna i geni che andavano male a scuola bambini prodiglio tra i bambini prodiglio possiamo ricordare mozart ha iniziato a suonare il pianoforte a tre anni e cosa ne dite di picasso che realizzò la sua prima opera d'arte a soli nove anni tu pensi di essere un genio prova a confrontare le tue capacità con quelle di questi dieci bambini prodiglio della storia dai talenti straordinari e meravigliosi e se scopri di essere anche tu un genio cerca di sfruttare al meglio il tuo dono nella gallery qui sotto puoi leggere le storie di dieci bambini prodiglio e scoprire se hai i sintomi della genialità